Nel weekend dell'Immacolata la nostra regione verrà attraversata da una veloce e abbastanza rapida perturbazione proveniente dal nord Europa. Darà i suoi effetti nelle primissime ore di sabato quando avremo un cielo spesso nuvoloso anche con qualche precipitazione che potrà risultare nevosa sopra i mille metri. Ma il tempo migliorerà già dalle ore centrali di sabato e diventerà bello e soleggiato nel pomeriggio di sabato. Domenica sarà una bella giornata piena di sole con venti di maestrale abbastanza moderati e temperature che non subiranno sostanziali variazioni. Per la prossima settimana cosa c'è da aspettarsi? La prossima settimana è attesa l'afflusso di correnti più freddi di origine artica. Il tempo sarà soleggiato, ampiamente soleggiato con cielo sereno e terzo, ma le temperature soprattutto da martedì e poi mercoledì subiranno una diminuzione di 7-8 gradi. Infatti al mattino avremo gelate estese su tutta la pianura e fino a meno 10-12 gradi a circa mille metri di altezza. Mentre di giorno a stento saliremo sopra i 6-8 gradi.